Eterotteri e ortotteri Degli eterotteri fanno parte le cimici, come la cimice verde. Si riconoscono per il corpo di forma ovoidale, spesso depresso dorso-ventralmente. Il capo è relativamente piccolo. La caratteristica più distintiva nelle cimici sono le ali anteriori, come si può vedere in questa cimice marmorata. Sono parzialmente sclerificate nella porzione anteriore e membranose in quella posteriore. Gli ortotteri comprendono grilli e locuste. La caratteristica distintiva di questi insetti sono le zampe posteriori molto sviluppate, con funzione saltatoria. Oltre al grillo campestre, di questo gruppo di insetti fanno parte anche le locuste, come la locusta migratoria. Particolarità di tutti gli ortotteri è anche quella di produrre canti specifici per ogni specie, utilizzati come richiamo sessuale o per la marcatura del territorio. Buona osservazione! Buona osservazione! Grazie a tutti.